Pagine di storia criminale che tornano attuali tra i verbali dell'operazione Malapigna. A parlare è il pentito Cosimo Virgilio che ricostruisce ai magistrati della DDA gli assetti, i rapporti e i personaggi chiave delle cosche della Piana. Il nome di Nino Gangemi torna con prepotenza. Il collaboratore di giustizia confessa agli inquirenti come Gangemi abbia ideato il grande aggregato di Indrangheta che si trova a Isola Caporizzuto, riunendo tutte le famiglie di quel territorio e come abbia sedato vere e proprie faide. Secondo gli investigatori, Gangemi aveva creato la prima loggia massonica a Palmi, costituendone una anche a Milano e secondo Virgilio sarebbe stato lui a dare consiglio sul sequestro di Polghetti, allora sedicenne, rapito in piazza Farnese a Roma per opera dell'Indrangheta. Nino Gangemi sarebbe inoltre l'ideatore dell'Indrangheta Piromalli. «Mommo Piromalli è il viso del capo dell'Andrina», afferma Virgilio, ma in realtà tutte le decisioni gli sono state consigliate da Nino Gangemi. Il mantra era «i soldi innanzitutto». Secondo Antonio Russo, altro collaboratore di giustizia, Gangemi riciclava le somme di denaro derivanti dai sequestri di persona, investendo sulla zona di Isola Caporizzuto. Alla morte di Nino Gangemi, Virgilio racconta come i palermitani mandarono in Calabria la sorella di Pippo Calò, cassiere di Cosa Nostra, al fine di mantenere rapporti con la Calabria che avevano intrattenuto in precedenza con lo stesso Gangemi.